Musei a retini aperti ed accessibili a Ferragosto, alcuni di loro per i quali è necessaria la prenotazione sono già sold out. È il caso della Cappella Bacci che custodisce gli affreschi della leggenda della vera croce di Piero della Francesca, per la quale bisognerà attendere fino al prossimo 19 agosto. I posti disponibili infatti per le visite fino a quella data sono sold out. Aperto il Museo archeologico Gaio Cigno Mecenate con il suo anfiteatro romano e tesori etruschi, la Casa Museo di Giorgio Vasari, la Casa Museo di Van Bruschi, il Museo Diocesano e il Palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Aperto anche il MUMEC, il Museo dei mezzi di comunicazione, qui a richiedere il Green Pass, obbligatorio per chi ha più di 12 anni, ci sarà Emilio, vera e propria icona degli anni 90. All'ingresso ci sarà misurazione della temperatura, obbligo di esibire quello che è il Green Pass accompagnato da un documento di riconoscimento. Questo ovviamente non vale per i minori di 12 anni e per chi presenta comunque certificazioni mediche apposite, sempre con il riscontro del documento di riconoscimento. Ovviamente poi restano tutte le altre disposizioni ancora in vigore, ingressi contingentati. Come si può entrare all'interno del museo? Si può entrare innanzitutto nei giorni di apertura che sono martedì, giovedì, sabato e la prima domenica di ogni mese. In più l'ingresso è contingentato, a 15 persone abbiamo comunque lasciato questo numero molto basso, nonostante comunque il museo si sviluppi in 500 metri quadri, quindi comunque nel pieno rispetto delle normative Covid. All'interno dell'auditorium in realtà comunque la capienza è anche superiore, perché per eventi comunque abbiamo su 100 posti una capienza di un terzo, comunque consideriamo, quindi comunque la capienza del museo ci aggira attorno alle 20 persone. Per questo un consiglio è sempre quello di prenotare quella che è la visita. Le prenotazioni non sono più un obbligo, dette dal Ministero, quindi a livello ministeriale, però comunque sono molto consigliate per garantire una visita in agevolezza. Grazie. Grazie.